Un saluto da Andrea Labbate, a tutti gli appassionati di calcio dilettanti e gli ascoltatori del Gioco è Fatto. Un grosso augurio davvero di Buona Pasqua, che passi questo periodo, che si torni a fare quello che più ci piace, seguire il calcio dilettanti sui campi, che adesso ci manca tanto. Io resto a casa, come vedete, tanti auguri di Buona Pasqua, un bacio a tutti e a prestissimo sugli schermi di Tecu Prato.